Il suo Gasparutti è stato confermato all'unanimità per il secondo mandato consecutivo alla presidenza di Lega Copp FWG. Ma oggi a Trieste, all'assemblea congressuale, in primo piano sono rimaste le crisi delle Copp di Trieste e della Carnia. Il servizio è di Raffaele Capuccio. Formalmente andavano rinnovate alcune cariche dirigenziali. In realtà l'assemblea regionale di Lega Copp FWG, in un modo o nell'altro, ha rappresentato un momento di riflessione per il momento difficile che sta vivendo il mondo delle cooperative in regione. Le vicende cooperative operai e Copp Carnica insieme rappresentano una ferita tuttora sanguinante. Una situazione per la quale sia i lavoratori sia i soci prestatori chiedono soluzioni rapide e una generale assunzione di responsabilità. In tal senso sono arrivate parole di rassicurazione, allo stesso tempo forti, dal presidente nazionale di Lega Copp, Mauro Lusetti, presente questa mattina a Trieste. È indubbio che su vicende di questa natura incidono sicuramente le scelte dei gruppi dirigenti di queste cooperative, che hanno tutta la responsabilità di quello che sta avvenendo e di quello che succede. Riteniamo che nel complesso il movimento cooperativo avrà condizioni e possibilità per poter mettere in campo quei piani di recupero che con la presenza della stessa magistratura saranno possibili. Non sono mancati i riferimenti al sistema del prestito sociale, ovvero ai risparmi di tante persone. Gli episodi di Copca e Copp Operai hanno inevitabilmente intaccato la fiducia nei confronti del sistema cooperativo in Friuli Venezia Giulia. Ora, è stato il richiamo di più relatori, sta la classe dirigente a recuperare un contesto che sta scontando anche la crisi nazionale. Servono dunque interventi generali con un'attenzione specifica al sistema di vigilanza, finito in queste settimane più volte nel mirino delle critiche. Un rimpallo di responsabilità che ha coinvolto anche la Regione e che sia il momento di cambiare il sistema di vigilanza, lo pensa anche la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani.